buongiorno buongiorno sono le otto e mezza noi siamo in partenza da primark e andiamo a fare un sacco di shopping in tutti i negozi bene non vediamo l'ora si va questo sarà il vlog sono le 10 è stato fantastico vorrei ammazzarmi certi tratti insomma si sentiva la macchiniera quindi dai la cabbinone adesso usciamo torneremo senza soldi ma torneremo è importante tornare molto bene che era quell'entrata però prima bagno bagno è la situazione dopo quante ore alle 10 anche alle 10 che sono le 12 ok due ore e mezza solo per fare questo e vi giuro che non so vediamo se si chiude non credete che sia finita perché rientriamo dentro era solo appoggiato abbiamo appoggiato un po di passaggio che fame che fame comunque dopo sicuramente farò un passaggino da primark a farvi una ripresa per oggi dopo andiamo da h&m the zenith hollister zara tradivarius beh dai direi che posso abbassare basta c'è anche vs se ti interessano dei trucchi devi comprare qualcosa mamma mia ho già lasciato il rene da primark vedo giuro assurdo vabbè andiamo a mangiare che stiamo morendo di fame ecco questo è il nostro pranzo salutare abbiamo un avocado un semi di girasole di vino una cottina di salmone con un po di insalata e per finire asparagi un po il tè accompagnato incluso di penzero per smaltire un po di gelire ok no comunque questa è la fila perfetto allora vi faccio una velocissima ripresa ma proprio veloce perché stiamo uscendo comunque c'è un sacco di cose abbiamo comprato ancora e ancora qua c'è tutta la parte dei vestiti i pantaloni e insomma è enorme ecco guardate quante cose adesso sono le due e mezza più o meno e andiamo credo verso casa anzi senza credo andiamo verso casa I am back siamo tornate tutto bene e sono cotta e penso che si noti dalla mia faccia dal mio viso perché non ho assolutamente intenzione di fare una video all singolo di queste cose perché sono troppo stanca e ho bisogno di sistemarle quindi niente ora vi girerò un piccolo video all dove vi vi faccio vedere cosa ho preso allora cominciamo innanzitutto qua ho una delle bustone molti sono dei regali quindi diciamo ciò che è regalo lo prendo e lo sposto prima cosa che mi salta all'occhio questa è un po la sporta degli accessori ho preso alla modica cifra di 4 euro vi dirò i prezzi nelle maggior parte di cose questo è capellino rosa perché se mi conoscete sapete che ho la pediciotta rosa e vi giuro che era troppo bello cioè non potevo assolutamente non prenderla era troppo carino butterò tutto qua di fianco comunque poi ho preso questa che è la fascetta che ho anche nera e mi piace da matti questa è proprio tantissimo ho preso questa cintura perché in pratica sono un po' in fissa con le cinture ultimamente ho preso questa che ho pagato 5 euro ed è tutta così pitonata mi fa impazzire veramente è troppo bella comunque intimo un classico reggiseno e ci sono altre mutande insieme cioè non le ho comprate sono un po tipo un filo però ci sono un cavetto per l'iPhone che in realtà questo qui le devo dare a mia zia perché è il suo serotto quindi gliel'ho comprato nuovo diciamo e queste ve le posso far vedere tanto le ha volute mia zia ma gliele devo dare subito non sono una sorpresa sono queste ciabattone pagate 4 euro sempre tipo stile Giulia Delellis però in versione invernale la mia zia è passata di ciabattone quindi ovviamente come non prenderli degli elastici 1,50 euro quelli che elastici proprio perché io li sto tutti perdendo ho preso queste che sono praticamente delle collanine argento molto simili a quelle che ho indosso ora sono uguali praticamente però sono argento e le ho pagate 3 euro sono molto carine mi piacevano un sacco poi poi ho preso una cosa che volevo per il mio telefono in realtà due cose ho preso questa cover per 2,50 euro che non voglio immaginare come sia nel senso che sarà un po' una come dicevano il cioffeca qua a Bologna adesso la apriamo insieme questo fa un odore di plastica che non potete immaginare è che ci sarà a dir molto però dai non è male non è male per 2,50 euro se ci capitate prendetela perché ne vale la pena io la volevo esattamente così e me la stavo per comprare da Puro che costa credo 20 quindi alla fine ho comunque risparmiato e volevo una cover nera classica proprio di quelle così cioè lucida resistente proprio una cover classica nera che se il telefono mi cade devi rimbalzare praticamente infatti guardate è proprio esattamente quello che volevo la fotocamera va perché è una cover che si adatta per il 6, 6s e tutti gli iphone praticamente quindi top poi cosa un po' contestabile però a me piaceva troppo come intimo ovviamente non per uscire comunque per 13 euro ho preso un body ovviamente ripeto intimo quindi non una cosa per uscire o per andare a ballare un po' di così un po' arg diciamo forma sportona mega pesante mi sono sbizzarita con i pigiami perché è l'ultima volta che ci sono stata non ne ho preso neanche uno quindi dovevo per forza farlo ne ho preso due per 10 euro l'uno ho preso questo qui con la foca manica tre quarti taglia S e i pantaloni sono qualcosa di spettacolare cioè non so se rende sono tipo un pelo non è proprio un pelo è tipo un pile comunque fanno molto caldo questo qui 10 euro natalizio ne volevo uno di natale fatto così con la renna e i pantaloni sono anche questi in tipo panno panno ecco e hanno tutta questa fantasia un po' natalizia con i fiocchetti di neve geometrici quindi questi qua sono i due pigiamoni che ho preso ho fatto un po' un investimento 20 euro di pigiami però ne va arrivare la pena poi visto che io ora sono in pista con queste maglioncine a collo alto e cose di questo genere ho preso questa è una magliettina blu pagata 8 euro potrebbe essere intesa anche come un maglioncino ho preso una 2xs sembra strettissima ma in realtà addosso si allarga in una maniera pazzesca ed è di un materiale vi giuro stra soffice purtroppo non c'erano altre colorazioni decenni mi sono dovuta condensare poi ho preso vabbè questi qua sono in realtà i pantaloni che ho già hanno i classici jeans neri che ho i miei jeans neri classici sono quelli però li ho ripresi perché i miei si stanno sbiadendo un sacco non so se li ho volevo farvi vedere la differenza comunque li ho presi tipo un anno fa e sono molto sbiaditi quindi per 13 euro li ho ripresi e per me ne vale la pena perché sono veramente dei jeans che porto con tutto li devo far stringere come gli altri perché mi stanno larghi in vita però pazienza li ho presi uguali anche per mia mamma perché anche lei li usa poi ho preso un maglioncino perché vi spiego non lo volevo comprare ma ci sono passata di fianco e c'era questa cosa con scritto 6 euro perché c'era il 25 per cento per il black friday quindi l'ho preso non mi interessava l'ho preso ho preso una S che quindi sta comunque abbastanza larga e niente è un maglioncino classico in tipo lana comunque fa molto caldo è sempre invernale autunnale poi le ultime cose stavo dicendo sono questi che non appoggio sul letto perché li ho provati quindi sono sporchi e sono gli ag i finti ag dovete sapere che io li ho color camoscio si color camoscio nuovi praticamente dell'anno scorso e li uso abbastanza d'inverno ma non così tanto però quando ho visto che costano 6 euro ho detto no non è possibile cioè devono essere i miei anche se sono brutti li devo comprare e invece no poi li ho provati calzano abbastanza largo perché io ho preso un 37 nonostante porti un 38 e mezzo quindi devo ammettere che calzano molto larghi ho preso poi altre due cose finiamo con Primark qua ci sono questa volta rientrata perché mi ero proprio dimenticata questa e stavo cercando da un sacco di tempo una felca per il lavoro perché come sapete noi di infermieristica di Bologna 1 siamo un po' sfigati e quindi non abbiamo le felpe in dotazione dal Sant'Orsola all'ospedale a differenza degli altri ospedali e quindi ce la dobbiamo prendere noi e visto che devo lavorare a febbraio e devo cominciare il tirocinio e si muore di freddo quando ci si cambia andare in reparto eccetera avevo bisogno di una felpa blu ma di lana cioè di pelo di pile insomma felpata e non di cotone come ho adesso quindi molto semplicemente ho preso una felpa nel reparto uomo però ho preso l'XS perché nel reparto donna non c'era fatta così molto easy cioè molto semplice però io la userò da mettermi sopra la divisa perché appunto veramente se no muoio in freddo altro negozio che ho fatto oltre Primark unico negozio è stato H&M perché stavo cercando un maglioncino beige a collo alto questo era nelle mie ricerche la Primark non c'era l'ho trovato qui c'era il 25% anche qua con il break friday quindi l'ho pagato 15,90 invece che 20 ed era esattamente quello che volevo questo qui è il collo bello proprio dolce vita come si deve questo è un maglioncino ho preso una S credo che comunque va a essere molto larga non so come altro farvelo vedere c'è il collo qua verso un po' largo quindi questo è l'altro negozio semplicemente perché volevo questo maglioncino a tutti i costi lo cercavo da una vita e volevo insomma perlo quindi questo è stato il mio shopping di oggi non vi ho appunto fatto un video haul anche perché insomma ho avuto shopping più consistenti ci sono anche molti regali in mezzo che non vi ho fatto vedere ho fatto tutto quello che cercavo in realtà perché non avevo bisogno di altro anzi ho preso anche troppo quindi niente in realtà questo è cominciato come un vlog ma finisce con questa haul e vi lascio perché ovviamente sarà venuto lunghissimo e vi ringrazio vi ringraziamo per essere state con noi durante questa giornata spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto che la haul vi sia piaciuta fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate dei capi acquistati o se anche voi ci andate ci andrete a breve insomma io vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima ciao ciao